giorno del ricordo pesaro onora alle vittime delle foibe omicidio di natale chiesti due ergastoli ai killer di bruzzese montecchio marche multiservizi inaugura un nuovo depuratore vecchio palace assegnati i lavori per il suo completamento risate dal teatro al cinema con il nuovo film del san costanzo show buona serata e ben ritrovati al nostro telegiornale oggi 10 febbraio ricorre il giorno del ricordo una giornata che commemora una pagina di storia a lungo nascosta come quella della tragedia delle foibe giornata particolarmente sentita dalla città di pesaro che nel secondo dopoguerra fu terra di accoglienza per tanti esuli giuliano dalmati allora questa sera partiamo così lini d'italia ed europa hanno aperto questa mattina le celebrazioni del giorno del ricordo a pesaro nel salone metaurense di palazzo ducale della prefettura un 10 febbraio che commemora una tragica pagina troppo spesso riposta nei cassetti più nascosti della storia la storia dell'orrore delle foibe la storia di uno sterminio etnico post bellico e di un esodo forzato dalle popolazioni istriane giuliane ed almate una storia di confine divenuta un caso italiano ed europeo particolarmente sentito da pesaro città che fu esempio di grande accoglienza e grande solidarietà grazie alla straordinaria opera di padre damiani in un salone metaurense gremito di autorità civili e militari tante testimonianze soprattutto dirette ai ragazzi delle scuole parte integrante di queste celebrazioni ha parlato il prefetto greco il sindaco ricci così come il presidente del consiglio comunale marco perugini e soprattutto maria elena tamino profuga bambina all'epoca profuga di zara e oggi rappresentante della comunità degli esuli giuliano dalmati è molto importante per noi profughi avere questa occasione di poter raccontare la nostra storia perché questo rimargina un po la grande ferita che per noi è stata lasciare tutta la nostra terra tutto la casa e trovare una nuova siamo stati accolti qui a pesaro e abbiamo ricostruito la nostra vita e abbiamo avuto sempre una buona accoglienza e questo ci ha reso meno pesante questa ferita grossa che abbiamo avuto una sofferenza grande soprattutto per i miei genitori che mi hanno portato via da zara io sono nata a zara nel 42 e i miei genitori mi hanno portato a un anno e mezzo con la nave siamo venuti a pesaro e perché era il periodo dei bombardamenti a zara sono stati 54 bombardamenti sulla città che hanno distrutto completamente per l'ottanta per cento tutta la città e quindi è stato molto penoso per noi però poi piano piano ci siamo ricostruiti una vita qui a pesaro con l'aiuto e l'accoglienza dei pesaresi memoria del passato è presente che si impegna a tenere viva questa memoria come il lavoro dello studioso pier luigi cucito che sta ripercorrendo in una sua opera il lavoro di accoglienza di padre damiani e poi il lavoro commissionato dalla presidenza delle consiglio comunale alla società pesarese di studi storici qui a pesaro c'è stata una grande opera di padre damiani che ha raccolto centinaia di ragazzi profughi dal dalle terre dell'altro lato dell'adiatico si sapeva di questa cosa stiamo cercando di studiare capire esattamente cosa è stato quante persone con quali aiuti eccetera sottolineo un aspetto che non conoscevo molto interessante a pesaro c'è stata un'accoglienza particolarmente calorosa nei confronti di queste persone sottolineo particolarmente perché qui c'era una giunta fortemente orientata a sinistra questa cosa non avrebbe nessun senso oggi ma negli anni dell'immediato dopoguerra i profughi furono visti un po malamente da certi partiti di sinistra qui a pesaro non è successo ed ora cambiamo argomento parliamo di cronaca due ergastoli a francesco candiloro e michelangelo tripodi è questa la richiesta avanzata ieri dalla procura di ancona ai due presunti killer di marcello bruzzese fratello del pentito di andrangheta girolamo ucciso la sera di natale del 2018 in pieno centro storico a pesaro un omicidio che sconvolse la città e che ora vede a processo i due calabresi ritenuti responsabili di aver premuto 20 volte il grilletto su bruzzese davanti alla propria casa in via bovio ne è convinta la procura anconetana che ha chiesto il massimo della pena ai due imputati ieri collegati dal carcere col tribunale di ancona prossima udienza il 9 marzo con la discussione delle parti civili che hanno chiesto il risarcimento di un milione di euro per i familiari ed ora ci spostiamo a montecchio dove proprio questa mattina marche multiservizi ha inaugurato il nuovo depuratore sul fiume foglia che consentirà un'importante operazione ecologica e ambientale sulle acque di origine urbana ed industriale valle foglia provincia di pesaro urbino e regione marche hanno applaudito oggi il taglio del nastro del nuovo depuratore realizzato a montecchio da marche multiservizi in una delle più grandi operazioni ecologiche e igienico ambientali realizzate dall'azienda sull'asta fluviale del fiume foglia un investimento da 6 milioni di euro che consentirà di raccogliere e trattare le acque refluo di origine urbana e industriale provenienti dalla rete fognaria di un'area di 4 comuni 50.000 abitanti e circa 6.000 imprese e che allo stesso tempo consentirà di dismettere altri 4 depuratori oggi inauguriamo un depuratore importante anche perché è l'ultimo degli esempi del nostro progetto principale che diceva meno depuratori più collettori questo è un depuratore di carattere sovracomunale che ci consentirà di chiudere quattro piccoli depuratori e quindi abbiamo costruito questo impianto che vorrei dire passa da 10.000 abitanti equivalenti di potenzialità originaria a 30.000 e viene non solo potenziato ma anche rinnovato con le nuove tecnologie molto più performanti dal punto di vista depurativo e quindi contributo alla qualità dell'acqua e del fiume. È la più grande opera ambientale di risanamento igienico e sanitario di tutta questa vallata che ha oltre 50.000 abitanti di 5 o 6 comuni che sono confinanti quindi giornata bellissima straordinaria cambia la qualità del vivere di una comunità di questo territorio. Restituisce al territorio un impianto di depurazione un investimento da 6 milioni che serve 30.000 abitanti equivalenti quindi non solo Vallefoglia, Montellabate, Tavuglia, Petriano e consentirà di dismettere quattro depuratori in una politica di Marche Multiservizi che è quella di avere meno depuratori e più collettori perché depuratori hanno dei costi di gestione, sono 107 nella provincia, ogni comune aveva ogni frazione del suo piccolo depuratore quindi un'ottica di razionalizzazione, un investimento importante che è solo parte di un progetto di investimento di depurazione di tutta la vallata del Foglia di 15 milioni che è quasi ormai gran parte realizzato. Riuscire a convogliare i reflui di 40.000 abitanti della media valle del Foglia in un unico punto che poi va giù a Pesaro, a Bolgeria, all'altro grosso depuratore credo che sia una grossa conquista per il rispetto alla tutela dei territori e dei nostri fiumi che, essendo fiumi abbastanza corti, con poche portate d'acqua durante l'estate, meritano il massimo rispetto molto più del poco. È un progetto comunque che ci consente di replicarlo anche in altri siti, per esempio abbiamo un progetto che abbiamo presentato sia alla Regione sia anche ai Ministeri sull'Alta Valle del Foglia perché vorremmo portare avanti l'idea di costruire un depuratore importante a Schietti e chiudere tutti i depuratori a monte e quindi collettare e depurare tutta la valata. Quindi diciamo che la nostra progettualità in questa direzione è molto precisa, è molto consapevole ma anche credo molto performante. E da un'opera pubblica inaugurata passiamo ad un'altra che incrocia le dita per completarsi dopo anni di ritardi accumulati. Parliamo del vecchio Palasport di Pesaro che come vedremo in questo prossimo servizio intravede concretamente la conclusione dei lavori. Che sia la volta buona? La domanda è lecita dopo quasi otto anni di lavori frastagliati di stop and go di ogni genere che hanno fatto carta straccia di ogni crono programma ed eragliato ogni piano di finanziamento. Ora però il vecchio Palasport di Viale dei Partigiani intravede l'ultimo miglio per diventare Palas Cavolini. Tre aziende pesaresi si sono infatti aggiudicate i lavori per l'ultimo appalto dedicato principalmente ad impiantistica elettrica, meccanica e al completamento edile. Le ditte pesaresi Zolfanelli e Gambini Mario che assieme alla Impe di Urbania si sono costituite in società di impresa aggiudicandosi quei lavori conclusivi per i quali 120 ditte avevano presentato manifestazione di interesse al comune di Pesaro. L'investimento conclusivo è di 3 milioni e 560 mila euro coperti quasi interamente da un mutuo acceso con il credito sportivo. Una cifra del tutto simile ai 3 milioni e 6 che nel 2015 erano l'iniziale previsione per la realizzazione dell'opera, poi quasi triplicata fino ai 10 milioni attuali fra costi lievitati per adeguamenti sismici e spropositato aumento dei costi dei materiali. Ora qualche settimana per la consegna del cantiere che dovrebbe dare una terza vita ad un luogo iconico della città. Prima tempio del basket degli anni d'oro della Scavolini, poi simbolo di abbandono e di cantiere lumaca e ora un auditorium della musica da 2000 posti. Le immagini che state vedendo ora mostrano l'assessore del comune di Pesaro Enzo Belloni ha un intento a liberare 60 pesci rossi nei laghetti dell'area protetta del Parco Miralfiore. Un gesto simbolico che si inserisce in un più ampio percorso di riqualificazione sul parco da parte dell'assessorato all'operatività che nelle ultime settimane ha pulito e sistemato sentieri e realizzato nuove recinzioni e cancelli per rendere il parco sempre più fruibile. A breve saranno conclusi anche i lavori del Consorzio di Bonifica sull'argine del fiume Foglia. Alunni al freddo e senza acqua da oltre un mese. Stiamo parlando della palestra della scuola primaria fanese di Cucurano inaugurata appena un anno fa. La Lega di Fano attraverso i suoi consiglieri ha ricevuto ripetute segnalazioni dalle famiglie e chiederà chiarimenti in Consiglio Comunale per risolvere un malfunzionamento che si sta ripercuotendo sia sugli alunni che sulle società sportive che usufruiscono della palestra. Lutto nel mondo dell'arte urbinate e morto a 86 anni a Fabriano Roberto Moschini, pittore, scultore e incisore che ha esposto le sue opere in Italia e all'estero e che si formò proprio alla scuola del libro nella quale divenne anche insegnante. Moschini era fabrianese ma ebbe sempre ad Urbino una sua seconda casa. E restando in tema di arte a Urbino saranno le scuderie del Quirinale a farsi carico del restauro del cosiddetto stendardo Alberti Urbino realizzato nel 1483 da Antonio Alberti da Ferrara e quanto previsto da un accordo sottoscritto nell'ambito della mostra Arte Liberata 1937-1947 Capolavori salvati dalla guerra che è in corso a Roma e che vede la Galleria Nazionale delle Marche come principale partner a fronte degli importanti prestiti concessi dal Museo Urbinate. Il lavoro di recupero dal progressivo degrado dell'opera è stato affidato al restauratore Giacomo Maranesi. Giorni poco fortunati per le rassegne teatrali e musicali pesaresi dopo l'annullamento dello spettacolo Azzul per indisposizione del noto attore Stefano Accorsi che doveva calcare la scena dello sperimentale questo weekend oggi è stato cancellato anche il concerto di Alec Onsworth voce e piano del progetto Clap Your Hands Say Yeah performance che era attesa alla chiesa dell'annunziata il 21 aprile. L'artista americano ha cancellato l'intero tour italiano per problemi personali. I biglietti già acquistati saranno rimborsati nel punto vendita dove si è compiuto l'acquisto. Anche per questo 2023 l'associazione Terziario Donna Conf Commercio Marche Nord è pronta a premiare la creatività imprenditoriale al femminile attraverso il conosciutissimo concorso Donna di Genio. Se sei una imprenditrice ti sei costruito un piccolo grande impero creato su innovativa genialità questo è il concorso che fa per te. Scade tra pochi giorni esattamente il 15 febbraio l'iscrizione al bando per la partecipazione al concorso 2023 Donna di Genio. Un premio da anni promosso da Terziario Donna Conf Commercio Marche Nord che intende dare spazio a tutte quelle idee innovative dell'imprenditorial femminile dando il giusto peso all'originalità in cui sviluppare tecnologie, strategie di mercato o economie sostenibili e rispettose dell'ambiente. Tante imprenditrici in questi anni sono già state premiate dalla presidente di Terziario Donna Patrizia Caimi che ha valorizzato il lavoro ingegnoso di donne distintesi nei settori più variegati, dal commercio al turismo, dalla ristorazione all'editoria, dai settori agroalimentari fino a quelli di salute e benessere. Per iscriversi si può andare sulla pagina Facebook di Terziario Donna e cliccare sul limp per compilare il form di partecipazione. Una volta inviata le richieste le candidate saranno poi contattate dalla coordinatrice per decidere data e ora dell'appuntamento in cui presentare quelle idee e quei progetti che aspirano a definirle donne di genio. Progetti che saranno poi valutati da un'apposita giuria. Risate a teatro, risate anche al cinema con il San Costanzo Show che dalla prossima settimana porterà nelle sale cinematografiche di Fano e poi anche di Pesaro il nuovo film Non aprite quella sporta. Siamo oggi con gli amici del San Costanzo Show qui negli studi di Rossini TV a pochi giorni dalla chiusura di un tour teatrale davvero di successo, quello con il sommario di battaglia. Sì è andata alla grande tanto che faremo anche delle repliche a Fano il 17 marzo e a Pesaro il 24 marzo. Ma nemmeno il tempo di chiudere il sipario che si va al cinema con Non aprite quella sporta sappiamo di questo film ma sappiamo poco altro. Eh sì vogliamo svelare poco vi aspettiamo al cinema a 16 a Fano al Teatro Politeama a 16 e 17 Cinema Teatro Politeama e poi il 18 qui a Pesaro al Teatro Sperimentale con due proiezioni 19 e 15 e 21 e 15. Ma chiediamo a Daniele Santinelli se può offrirci qualche anticipazione ma credo di no. Santinelli vuole svelare la trama. Io vi posso dire che ci sono i classici personaggi del San Costanzo Show, nuovi personaggi, ognuno di noi ne interpreta anche tre o quattro, è un giallo comico ma non possiamo svelare la trama. È colpevole. È colpevole, non si può, non si può, non si può, non si può svelare. Se vuoi puoi dire che abbiamo dei film, te lo devo, puoi lanciare. Vabbè posso dire che, vi volevo dire che abbiamo già fatto un'anteprima del film con tante persone diciamo importanti che sono venute a vederlo e vi facciamo vedere un pochettino le prime impressioni di chi è uscito dal cinema ecco in questi giorni. Sono qui al cinema e sta per uscire il pubblico della prima nazionale del nuovo film del San Costanzo Show, non aprite quella sporta, quindi adesso andiamo a sentire dei commenti a caldo. Signora, signora, ti è piaciuto il film? Ma scherzi, bellissimo, è vero? Ci ha fatto tanto ridere, per passare un'oretta e mezzo, un'oretta e tre quarti, quello che è, è vero? È andato anche ai giovani, è vero che ti è piaciuto? Andiamo a mangiare la piada? È bello, è bello, andate. Quindi l'ha fatta ridere? Sì, ma forte, sempre. Però c'erano anche degli spunti di riflessione, no? In questo film. Ah no, non l'ho visto quello. Siamo al cinema, non aprite quella sporta, San Costanzo Show, il nostro nuovo film. In anteprima, l'uscita del film, ma il colpevole però è importante, che volevo dire che questo... SanCostanzoShow.com, tutte le date e le informazioni, ciao, 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 ciao. E allora non perdetevi questo importante film, divertentissimo film, con i comici del San Costanzo Show, ma non perdetevi neanche la programmazione di questa sera su Rossini TV, perché vi aspetta una bellissima commedia teatrale, che è stata rappresentata nelle ultime edizioni del Festival GAD, si intitola Un'improbabile storia d'amore. Questa sera vi aspetta alle ore 21 e 20. Invece domani ritroverete il nostro carissimo Marco Cadedu, alla conduzione della rassegna stampa in diretta alle 7.20 sul canale 80 e sulla nostra pagina Facebook. E vi ricordiamo anche che domenica alle ore 21 abbiamo il piacere di rimostrarvi Le stelle continueranno a brillare, questa serie di documentari bellissimi, che raccontano la Pesaro negli anni che vanno dal 1935 a 1945, quindi stiamo parlando della seconda guerra mondiale raccontata appunto nella provincia di Pesaro e Urbino. Quindi l'appuntamento è per domenica alle ore 21. Grazie per essere stati con noi, buon fine settimana e continuate a seguirci anche sui nostri canali social. Buona serata.